Musica Musica Io partirei proprio dal titolo di questo convenio se è bello vale di più e mi rifaccio proprio anche a un tema che la bellezza è quella che salverà il mondo che cos'è che allora è necessario fare dove dobbiamo intervenire dobbiamo intervenire su tutto un patrimonio immobiliare obsoleto rivolto alla residenza residenze che oggi vengono richieste sul mercato e per abitazione diretta quindi la persona che acquista acquista per se stesso oppure per mettere a reddito e di conseguenza sono delle residenze che devono guardare a un mercato completamente diverso mentre la prima fase quella dell'acquisto diretto guarda all'individuo la fase invece di acquisizione per mettere a reddito guarda al mercato e il mercato oggi è molto esigente molto esigente perché vuole degli edifici prima di tutto a norma vuole delle residenze che siano controllate e valorizzate proprio anche dai materiali che compongono appunto la residenza stessa e quindi si orienta sempre di più a delle certificazioni che danno un valore aggiunto all'immobile tipo certificazioni cradle to cradle che guarda ai materiali di finitura che partono da una filiera che è attenta sia al reperimento delle materie prime che alla lavorazione che alle fonti di energia rinnovabile e al riciclaggio poi del prodotto stesso e quindi mette sul mercato un prodotto che è sostenibile sostenibile perché non emette sostanze nocive sostenibile per quello che non ha messo sostanze nocive durante proprio l'ambito della produzione la mia esperienza mi porta a dire che sempre di più le unità residenziali a reddito ce ne saranno sempre di più perché oggi i giovani più che acquistare usano come usano la macchina come usano gli uffici col co-working come usano le abitazioni col co-living altrettanto le case che usano direttamente devono essere chiaramente delle case cablate e devono essere delle case che guardano già magari a delle considerazioni di completamento finalizzato proprio all'abitazione quasi immediata quindi il completamento oggi è dato da elementi che chiamiamo strutturali come può essere la cucina come possono essere gli armadi quindi con questi elementi già facenti parte della residenza la persona che prende in uso l'appartamento o in locazione è chiaro che può entrare immediatamente a abitare e a vivere la casa stessa quindi sempre di più il prodotto che viene messo sul mercato deve essere attento, sostenibile che guarda un risparmio energetico che guarda un pochino avanti che guarda quelle che sono le esigenze oggi del vivere che è un vivere globalizzato e che quindi guarda tutte le sfaccettature alla sicurezza e non per ultimo anche al design e quindi anche all'estetica ma prima di tutto a tutto quello che è la rivoluzione tecnologica grazie a tutti grazie a tutti